Uno sguardo al passato con Giuseppe Folchi, regista, fotografo, un artista a tutto tondo. Nell'auditorium del Palazzo Gil di Campobasso è stato presentato il suo documentario dal titolo Visioni Molisane, una pellicola del 1948 recuperata e restaurata. Un viaggio tra i nostri paesi per raccontarne le bellezze e le tradizioni. Visioni Molisane è un corto, 7-8 minuti, ritrovato alla Cineteca Nazionale di Roma e quindi una volta che abbiamo fatto questa scoperta ci siamo tutti quanti mobilitati per restaurarlo perché era tra l'altro una pizza al nitrato che facilmente poteva, aperta la scatola, poteva completamente sparire e quindi Molise Cultura ha sponsorizzato questo restauro. Negli spazi del Palazzo della Cultura allestita anche una mostra fotografica con alcuni scatti dell'artista. Questa mostra, queste foto che noi ritroviamo ci fanno passare dalla realtà di un Molise che certo aveva prevalentemente una sua fisionomia agro-pastorale a quello che invece era un contesto anche di carattere nazionale. Ricordiamo che poi Folchi partecipò particolarmente a quelle che erano delle realtà significative anche al mondo dei futuristi per esempio o al mondo del cinema italiano del dopoguerra. Invitato dalla famiglia Folchi come relatore, il direttore dell'archivio di Stato di Campobasso e di Isernia, Vincenzo Lombardi. Folchi oltre ad essere un cineasta, aver prodotto una serie di cortometraggi ha un occhio molto particolare rispetto alla società molisana e meridionale in genere degli anni 50 e questo traspare dai suoi documenti, dai suoi prodotti. Sul palco anche l'attrice Daniela Terreri che ha cantato per l'occasione alcuni brani anni 40 e anni 50 accompagnata da Nicola Cordisco alla chitarra. Giuseppe Folchi era un mio parente, era il marito di una cugina di mia mamma di primo grado quindi io andavo a casa di mia zia, anche se lui è morto non l'ho mai conosciuto però io faccio cinema e Giuseppe Folchi nella famiglia ha fatto questo quindi ha collaborato con tantissime persone, con Germi, con Alberto Muller è stato un personaggio, un regista e sono fiera in qualche modo di questo. Grazie. Grazie.